Ciao SoulFamily! Finalmente il giorno della Befana è quasi arrivato e ovviamente non potevo che aprire insieme a voi una calza, ma una calza molto ma molto speciale, una calza che diciamo ho solo io perché oggi andremo ad aprire la calza surprise di Tiger! Ma prima di cominciare vi lascio ancora un po' sulle spine perché vi lancio la nostra fantastica sigla! Hola SoulFamily and welcome back to my channel ma soprattutto bentornati in questo nuovissimo e super befanissimo video! Ebbene sì perché come avrete ben capito l'epifania che tutte le peste si porta via purtroppo è arrivata e mi dispiace un sacco perché tutta questa fantastica magia del Natale purtroppo scomparirà ma non struggiamoci dal dolore perché precisamente tra 11 mesi e 20 giorni circa è nuovamente Natale! E' nuovamente il periodo più bello dell'anno che io adoro in assoluto quindi preparatevi! E quindi niente raga oggi come vi dicevo nell'intro sono qui per aprire insieme a voi una calza un po' speciale! Una calza che diciamo ho solo io che è stata creata solo per me ed è la calza di Tiger! La calza surprise di Tiger! Però prima di cominciare ad unboxarla insieme se ancora non l'avete fatto mi raccomando lasciatemi un bel like a questo video! Se siete nuovi e volete far parte anche voi della MagicaSweerFamily iscrivetevi in tantissimi al mio canale YouTube e inoltre vi aspetto anche su tutti i miei social network o meglio Instagram e la mia pagina TikTok ed è proprio di Instagram che vi voglio parlare perché se mi followate vi terrò compagnia con foto, post, stories, news e tanto altro quindi cosa sto aspettando? Followatemi! E adesso passiamo alla calza surprise di Tiger! Sono un po' fuso, queste feste mi hanno mandato un po' invisibilio! Come vi dicevo questa calza è stata creata appositamente per me Perché? Perché gli ho detto mia mamma Mamma vai da Tiger, comprami un bel po' di cosine che sai che potrebbero piacermi me le inserisci all'interno di una calza e poi facciamo la calza surprise di Tiger cioè raga adoro perché io non so quello che si nasconde qui all'interno cioè veramente tanta roba, è bella piena voi la vedete così, sembra piccolina ma vi assicuro che è abbastanza grossa e contiene parecchie cosine e quindi niente raga, quindi non andate da Tiger a chiedere la calza perché non c'è, nel senso me l'ha creata mia mamma appositamente per me andando da Tiger lei con le idee che avevo voglia cioè nel senso avete capito e detto questo cominciamo fatemi sapere giù nei commenti se anche voi adorate Tiger quali sono le cosine che vi piacciono di più giocattoli, la cancelleria, gli articoli per la casa eccetera eccetera sono curioso, fatemi sapere tutto e buon 2021 a tutti vabbè, non capisco più nulla ok, cominciamo a unboxare allora mia mamma mi ha detto che ci sono delle cosine che sicuramente mi piacciono delle cosine che sicuramente mi servono perché io le consumo cioè nel senso le consumo che una di queste cose la perdo cioè sempre e cominciamo e qua c'è un pacchettino con tutta la carta di Tiger ed è un paio di forbici chissà come mai le forbici proprio che io le perdo continuamente cioè io in casa mia perdo raga numeri di forbici che voi non vi immaginate quindi questa è una surprise ben gradita poi andiamo avanti mano nella calza eeeeh adoro perché dovrebbe essere una light box questa io ho casa piena di light box in camera mia qua nella postation cioè però questa qua dovrebbe essere particolare perché oltre alla light box c'ha tutte le lucine colorate intorno e sicuramente la utilizzerò per creare qualche frase magari non so qua in postation in camera mia comunque è bellissima bellissima perché raga ehi vabbè qua in mezzo ci mettete il vostro testo e poi qua intorno sicuramente come da immagine farà tutte le lucine colorate c'è questa e poi all'interno vabbè le istruzioni e poi anche il le varie lettere per comporre le vostre frasi andiamo avanti cosa è questa cosa ah ok una buff bomb di saiger questa qua profumazione non lo so bomba da bagno vabbè apriamola e annusiamola non ha una profumazione almeno è sigillata però comunque è una semplicissima bomba da bagno vabbè sa che ultimamente le sto adorando ok ah vabbè un pacchetto di caramelle perché ovviamente nella calza quelle non devono mai mancare un pacchetto di caramelle sì di tiger e dovrebbero essere le fragolotte gommotte andiamo avanti e qua c'è un paccone grosso e no vabbè io adoro alla follia cioè no oh raga non vedo mai di utilizzarlo è l'umidificatore allora praticamente è una cosa che va con la porta usb con la presa se non sbaglio sì qua dentro no vabbè io amo cioè devo vederlo subitissimo questa cosa oh mio dio finalmente anche io l'umidificatore puoi prendere tutti gli oli essenziali allora ho ascoltato bene le mie richieste e tra l'altro si dovrebbe anche illuminare sì with changing lights quindi cambia anche colore ed è ed è praticamente questo ovetto che dovrebbe umidificare l'aria della vostra stanza o degli ambienti dove abita cioè dove state qua c'è il no vabbè bella questa cosa oddio la desideravo tantissimo adesso appena finisco il video vado immediatamente a provarla qua c'è il suo cavo e qua c'è l'ovetto che dovrebbe tipo spruzzare fuori tipo l'acqua è profumata no vabbè io sono contentissimo e poi e poi e poi e poi c'è ancora se non sbaglio esattamente un pacchetto di caramelle ed ecco qua raga che la calza di tiger finalmente è vuota fatemi sapere cosa ne pensate io sono veramente felicissimo soprattutto di questo cioè io raga lo adoro tra l'altro credevo che me l'avrebbe regalato mio fratello a Natale quello grosso invece non l'ho trovato e vabbè pazienza ci ho pensato la beffana e quindi niente raga io adesso lo do più novi migliotamente sono felicissimo voi non potete immaginare cioè io adoro poi fa tutto questo funino comunque raga se questo video e questo unboxing vi sono piaciuti mi raccomando lasciatemi un bel like se siete nuovi e volete far parte anche voi della magica swill family iscrivetevi tantissimo al mio canale youtube e inoltre li aspetto anche su tutti i miei social network ovvero instagram e la mia pagina tiktok io per adesso vi mando un super mega bacio befanoso a tutti e noi ci vediamo prossimamente con un altro e fantastico video ciao ciao